Sono anch'io parte di questa realtà, la redazione di Milano News, una redazione giovane, fatta da giovani appassionati, accomunati appunto dalla stessa passione che è quella per l'informazione, per il giornalismo. L'informazione fatta da Milano News è un'informazione libera, utile ai cittadini, dà voce anche ai cittadini. Come ho già detto è una realtà che è nata da pochissimo tempo, ma che piano, con impegno e con passione, sta dando voce anche ai milanesi. Bene, la passione e l'impegno sono fondamentali, ma non bastano per far crescere una redazione come questa. Quindi quello che vi chiediamo è un piccolo contributo, un sostegno economico, che permetta di realizzare il nostro sogno che in parte è già realtà, di farlo crescere. Per questo vi ringraziamo se vorrete farlo.